e siamo di nuovo a Spa-Francorchamps siamo di nuovo su Parcfermé e campionato francese di Formula 4 io sono Alfredo Cirelli e con me ci sono Daniele Botticelli e Maria Alessia Quanzì, ciao ragazzi ciao Alfredo, ciao Alessia e un saluto a tutti i nostri fan appassionati ciao Daniele, ciao a tutti allora, mentre le vetture partono per il giro di ricondizione Quintato scorre la griglia di partenza ci arriveremo fra un attimo comunque gara 1 è stata molto in tezza nonostante le due safety car che hanno inframmezzato la corsa e ha visto la vittoria di Evan Schilter davanti a Kevin Foster questi due piloti che però partiranno come appunto possiamo vedere proprio adesso dalla quinta fila perché? Perché in gara 2 c'è l'inversione della griglia punti che vengono dati soltanto ai primi 8 classificati e mentre arriviamo sul punto più iconico del tracciato la curva delle Rouge che poi porta verso la curva del Radillon e quindi sul rettino del Camel andiamo a leggere la griglia di partenza con Daniele Botticelli Daniele vai Sì come hai citato adesso la griglia di partenza di questa gara è caratterizzata dall'inversione di griglia dei primi 10 classificati al termine delle qualifiche 1 quindi per questo motivo troviamo in pole position il pilota statuitense Gareth Berry che è il garone è la partita appunto dal decimo posto davanti a Louis Lesser che va a completare la prima fila terzo posto in griglia per Enzo Peugeot leader del campionato dopo l'appuntamento di Poe che apre adesso la seconda fila davanti al connazione francese Adrien Clombenil quinto posto per Edgar Pierre che deve riscattare una gara 1 finita nel peggiore dei modi con un ritiro in occasione degli ultimi minuti di gara con Romain Andreolo in sesta posizione settimo posto in griglia per Tom Callender davanti a Hiyu Yamakoshi con Kevin Foster e il vingitore di gara 1 Evan Schilter a completare la top 10 di questa griglia di partenza poi undicesima posizione per Max Reis davanti ai due francesi Cairo Schulz e Paul Alberto mentre Jason Young va a completare la settima fila in quattordicesima posizione quindicesimo posto per Gianni Steven Haydans davanti a Enzo Richie con Andrei Dune e Frank Porter Ruiz a completare la nuova fila in diciassettesima e diciottesima posizione 19 posto per il britannico Gabriel Dole Parfey davanti a Jaroslav Veselaho con Finn Wibelhaus ventunesimo davanti a Leonardo Megna che come in gara 1 e come successivamente in gara 3 scatterà dalla ventiduesima posizione poi Edoardo Borgnà scusate scatterà dalla ventitresima posizione davanti a Joao Diaz Balesteiro Luca Savu e Paul Lopez Sì perfetto grazie per averci letto la grilla di partenza qui intanto le vetture sono già nella parte di tracciato che ritorna verso il rettilineo del traguardo e volevo chiedervi è la prima volta che Garrett Berry al di là dell'inversione di grilla si trova così davanti potrebbe essere comunque una situazione nuova per lui effettivamente il dover cercare di vincere gestendo comunque una gara dalla prima posizione quindi secondo voi come potrebbe comportarsi Berry in questa situazione Berry già nella gara due di Po è riuscito a vincere con anche lì c'era la grilla invertita su un tracciato molto più difficile rispetto a questo qui dato che si trattava di un circuito cittadino qui in questa gara con la grilla invertita molto fa una buona partenza quindi sia lui ma anche gli altri piloti che lo seguono su tutti su tutti la serie soprattutto Peugeot che è anche un pilota diciamo di classifica tenteranno appunto di passare davanti nei primi giri qui per poi andare a costruire un buon vantaggio evitando di rimanere coinvolti nella rimonta di coloro che seguono quindi se riuscirà Berry ad avere un ottimo spunto avrà buone chance per lo meno di ottenere un podio sì Berry che comunque ha gestito con una grandissima difesa nel corso degli ultimi passaggi quello che poi gli ha consentito di vincere gara 2 del Gran Premio di Po che in realtà era la terza gara del weekend quindi effettivamente Garrett Berry però dovrebbe trovarsi a gestire una situazione per la prima volta in un circuito in cui effettivamente superare è molto difficile punto fondamentale sarà ovviamente arrivare all'Eurugera di Yon con una buona velocità perché possa permettergli di arrivare abbastanza distaccato sul rettino del cammello per non farsi prendere la scia da Luis Celestero e soprattutto da Enzo Peugeot che mi sembra quello messo meglio per questa gara Bandiera verde che sventola nelle retrovie si accendono adesso le luci attendiamo ancora un attimo si accendono le luci sta per partire gara 2 della Formula 4 francese a Spa-Francorchamps partono le vetture c'è la vettura che forse è rimasta ferma no è semplicemente partita male credo che fosse in seconda fila probabilmente era Clown-Neill fatto so che adesso viene attaccato Barry arrivano in 3 alla source davvero molto difficile qui però comunque riescono a passare indenni credo che sia passato davanti forse Peugeot lo scopriremo tra poco comunque adesso è un momento in cui si addorraggio la grafica non credo che comunque che Barry sia rimasto davanti no è Celestero Celestero e Peugeot che sono passati davanti Clown-Neill Pierre Andrelop Calender Foster Yamakoshi Schilter non vedo non vedo Barry segnato in ultima posizione ma non credo credo semplicemente ecco qui sì infatti semplicemente un problema di transponder Peugeot Peugeot al comando Peugeot al comando infatti Peugeot al comando davanti a Barry Andrelop Clown-Neill Celestero che adesso risulta in quinta posizione vediamo comunque adesso perché sappiamo che con il punto di rilevamento che si trova proprio vicino alla staccata della Lecombe è abbastanza facile che vengano segnati dei piloti erroneamente davanti quando in realtà hanno semplicemente staccato dopo quindi adesso vediamo nel momento in cui si andranno a aggiornare i distacchi nel passaggio fra il secondo e il terzo settore fatto stare comunque Peugeot è davanti nei confronti di Barry di 94 millesimi Andrelop segue davanti a Clown-Neill quindi abbiamo Celestero Pierre Calender Yamakoshi Foster e Giltère che chiude la top 10 chiude la zona punti invece Yamakoshi in ottava posizione e partenza abbastanza arrembante con tre vetture comunque alla source sono stati bravi però sono stati bravi tante bagarre anche qui in questa parte finale di pista abbiamo visto due vetture affiancate a Puon anche a Urus c'erano due vetture nelle posizioni vertice che sono arrivate quasi al contatto nella parte in salita con il pilota all'interno che sinceramente non sono uscito a riconoscere ma che ha dovuto alzare il piede per evitare un contatto però sì per adesso gara molto pulita sperando che possa continuare così fino alla bandiera a scalchi siamo nelle retrovie con appunto le vetture che sfilano Peugeot Berri Andrelot Clomenil Pierre Glesser Foster Yamakoshi completano la zona punti al termine del primo giro si va verso la discesa che porta poi alla compressione delle rouge con Peugeot che ha un leggerissimo margine tre decimi diciamo che è il limite per chi è dietro per cercare di prendere la scia anche se ovviamente è molto difficile poi una volta che si arriva alla saccata della Lecombe quindi abbiamo come detto in attesa che arrivino sul rettino del Camel Peugeot Berri che si fa vedere potrebbe cercare di uscire dalla scia mentre dietro già sicuramente escono dalla scia Peugeot copre l'interno quindi Berri Berri ci prova ma non riesce il resto ha fregato anche Andrelot che ovviamente non ha spazio con i due davanti che si muovono forse si sono mossi un po' troppo c'è una vettura che va lunga c'è una vettura che va lunga adesso vedremo comunque chi è che perde posizioni fatto sta che comunque adesso c'è Andrelot che sembra più rimbatta e che cerca l'attacco all'interno cerca l'attacco all'interno nei confronti di Berri ma non riesce a passare si arriva adesso verso il tratto di Puon poi si andrà verso la Fagne e qui potrebbe essere leggermente più complicato di dare un attacco si è riavvicinato anche Clomenil si è riagganciato anche Ciclester che ha perso posizioni al via non è stato particolarmente brillante nei primi metri Pierre pure è anche molto vicino nei confronti di Ciclester più distante Yamakoshi che è un secondo e tre di ritardo dal pilota francese quindi non sembra essere in bagarre per la vittoria o per il podio gara in salita per ora per Ciclester che partiva secondo adesso è quinto però sembra ora riuscito a riagganciarsi ai piloti di testa occhio ad Andrea Roche che sembra molto 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 aggressivo ha già cercato il sorpasso perde posizioni Ciclester perde posizioni non so se il trasponder perché ce l'hanno già fatto questo scherzetto o se è lui che ha perso posizioni non inquadrato adesso vedremo fatto sta quando passeranno le vetture sul traguardo non mi sembrava di vedere comunque una vettura che faceva un errore che andasse lunga però comunque adesso vedremo la posizione reale di Ciclester fatto sta che si arriva alla bus stop per il termine del secondo giro con Peugeot Barry Andreolo Clomenil che sono molto vicini c'è anche Pierre che è molto poco staccato nei confronti del quartetto di testa tiro più veloce adesso per Yavakoshi però resta un secondo e uno di ritardo dal gruppo che precede che comanda la gara adesso si arriva ovviamente del punto in cui potrebbe esserci il sorpasso sono tutti molto vicini tutti quanti hanno la scia tranne Peugeot e questo ovviamente è un fattore anche che potrebbe complicare le cose perché ovviamente quello davanti alla scia potrebbe guardate ci sono due vetture affiancate però ce lo staccano per un bloccaggio la source è una metà classifica non l'abbiamo visto però chi fosse purtroppo senza prima è difficile capire Andreolo si fa vedere un'altra volta su Barry sì però ovviamente il problema è che Barry si butta all'interno Peugeot si butta all'interno e Andreolo si trova comunque tutta la strada occupata dai due piloti davanti non è particolarmente facile il compito di Andreolo ovviamente finché Barry resta in scia doveva sperare che probabilmente Peugeot si allontani un po' ma se Peugeot si allontana un po' da Barry per Andreolo potrebbe essere difficile puntare alla vittoria quindi effettivamente non sa cosa sperare Andreolo e dello stesso parere sono sicuramente anche Clomenil e Pierre Yamakoshi Yamakoshi sembra essersi leggermente riavvicinato almeno visivamente anche se la grafica lo segna un decimo peggio di come era messo prima però adesso tendiamo di vedere comunque al passaggio del secondo intermedio per vedere quanto si si era avvicinato di Yamakoshi che nel giro precedente era stato più veloce dei cinque che lo precedono e gara abbastanza movimentata fino a questo momento mentre abbiamo visto una premiazione della categoria che ha corso in precedenza detto questo comunque rimaniamo concentrati sulla gara con appunto i primi cinque che stanno offrendo un'ottima battaglia Alessia tu come vedi questa battaglia finora che è sembrata molto corretta comunque non ci sono stati molti contatti l'abbiamo visto anche alla sursa in partenza beh esatto è stata abbastanza tranquilla finora ovviamente è gara due perciò anche l'inversione dei primi dieci influenza scusa intanto con Andrilo che si fa vedere nei confronti di Berri però chiude quindi ti ricciato di nuovo la parola esatto proprio come dicevo i primi dieci invertiti movimentano di più sempre le gare due e Peugeot in questo caso dopo lo splendido weekend che ha avuto a Po sta dimostrando appunto di avercene per vincere anche qui sul territorio berga sì le gare due sono sempre ovviamente più movimentate qui tanto rivediamo il replay della partezza anche se c'era un tentativo di attacco che mi era parso di vedere tra Andrilo e Clomenil qui tanto rivediamo appunto il brivido con ben tre vetture affiancate alla source è una cosa che non si vede tutti i giorni certo è che forse sarebbe il caso di andare live con le immagini perché credo che i primi stiano ancora lottando e questo è ancora un replay ovviamente dei primi giri dobbiamo raccontarvela grazie al live timing perché al momento non ci vengono fordite immagini siamo live siamo live questo è un live Beric che prova Beric che prova appunto su Peugeot però chiude di nuovo ci sono due vetture ritirate ci sono due vetture ritirate la numero 61 Gelser e Doil Parfait avevamo visto che Gelser era arretrato in classifica non abbiamo visto il motivo sembrano forse problemi di natura tecnica perché non sembrano esserci grossi danni sembrano esserci invece grossi danni per Doil Parfait perché stanno intervenendo sul posteriore forse sulla sospensione vedremo vedremo fatto sta che adesso davanti sembra essersi leggermente distaccato il trio di testa Peugeot Berri Andreolo nei confronti di Clomenil che adesso si trova a sei decimi di ritardo dal pilota francese che lo precede Pierre è ancora vicinissimo nei confronti di Clomenil lo vediamo ovviamente a 76 millesimi non sono nulla ci prova però ovviamente chiude Clomenil davanti quindi veniamo qui dato la progressione con Peugeot che ha guadagnato ovviamente due posizioni una posizione aperta a Berri che partiva al comando tre posizioni guadagnate da Andreolo che partiva a sesto e che quindi con la posizione che ha ottenuto la terza posizione che ha ottenuto nella gara precedente può fare un bel balzo in classifica qui tanto abbiamo visto Pierre che ha passato Clomenil adesso che comunque si è aggiornata la grafica tornati nel nel terzo settore e ritorniamo appunto davanti con le immagini con Peugeot Berri Andrew Lowe Pierre Clomenil Yamakoshi Seven Hidens e Foster che conclude la zona punti si fa vedere Andrew Lowe nei confronti di Berri tenta l'attacco però Berri chiude e Berri tenta addirittura a sua volta l'attacco nei confronti di Peugeot ma non riesce quindi resta tutto invariato nel momento in cui le vetture tagliano il traguardo del quarto giro di gara ed entrano nel quinto adesso si fa vedere comunque Andrew Lowe nei confronti di Berri sono affiancati potrebbe averlo no resta dietro resta dietro perché all'esterno questo però da un leggero margine a Peugeot che adesso si è avvantaggiato nei confronti del gruppo quindi effettivamente sembra che la lotta per la vittoria sia per un attimo messa in pausa con un Peugeot che ha un leggero margine di otto decimi nei confronti di Berri quindi abbiamo Andrew Lowe è per attaccatissimi credo che la realtà del margine di Peugeot sia di un secondo adesso staccheremo davanti e questo però lascia scoperto Berri perché non può usufruire più di tanto della scena di Peugeot quindi è facile per dare le attacche di Andrew Lowe e infatti vediamo Andrew Lowe che si affianca Andrew Lowe che si affianca a Berri e dovrebbe essere passato Andrew Lowe no la vettura numero 16 si Andrew Lowe è passato Andrew Lowe è passato qui dato c'è una vettura che entra in box la numero 9 la vettura numero 9 di Karol Schulz Karol Schulz che gli manca anche l'anteriore quindi probabilmente un contatto e quindi ha perso la posizione Berri nei confronti di Andrew Lowe bravissimo che quindi dopo il terzo posto conquistato in gara 2 né in gara 1 in gara 2 può effettivamente chiudere sul podio e guadagnare punti importanti per la classifica del campionato con Berri che adesso deve guardarsi le spalle da un Pierre che probabilmente sembra averne un pochino di più qui dato siamo verso il centro gruppo visto la vettura numero 7 quindi dovrebbe essere nella lotta tra Borgnà Megna Alberto Lopez Veselao e Viebe Laus verosimilmente sì infatti con Seven Hidens Seven Hidens questo era Seven Hidens che ha provato l'attacco su Klomenil ma non abbiamo visto comunque la conclusione dovrebbe essere passato sì dovrebbe essere passato comunque Seven Hidens nei confronti di Klomenil è lunghi la Stavelot cioè Steven Hidens sta facendo una rimonta incredibile partiva quindicesimo adesso è sesto quindi ha guadagnato ben nove posizioni rispetto alla partenza e mettendosi alle spalle anche Giltere e Foster ovvero i primi due classificati di gara 1 con Giltere che si è portato davanti al canadese nel passaggio precedente Seven Hidens potrebbe anche rientrare nella top 5 a questo punto leggermente staccato da Yamakoshi ma sembra averne molto di più quindi adesso vediamo intanto con Pierre anche Pierre che passa a Barry o almeno ci prova perché all'esterno Barry avrà il vantaggio del rettore però conclude il sorpasso ben prima di arrivare alla saccata della source e a questo punto penso che Barry abbia dei problemi abbastanza evidenti di passo e potrebbe essere anche preda facile nei confronti prima di Yamakoshi e poi anche di Seven Hidens mentre qui ci riprova perché ovviamente resta in scia resta in scia Pierre che lo precede però vediamo se riuscirà a passarlo una volta arrivati alle comb sfruttando la scia sul rettino del Kemmel ma se non dovesse riuscirci per lui sarà un giro molto duro si fa vedere si fa vedere tenta all'interno però sembra averne un pochino di più comunque Pierre allarga Pierre ma ripassa no attenzione dall'esterno dall'esterno Pierre che tiene Pierre dall'esterno però tenta l'incrocio di traiettoria a Berry però dovrebbe avere comunque l'esterno e tiene molto bene Pierre tiene Pierre perché adesso dovrebbe avere l'interno e vediamo 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 va largo Berry Dovrebbe adesso avere il vantaggio Dovrebbe adesso avere il vantaggio Berry però sembra essere davanti Pierre forse davanti Pierre forse davanti Pierre mi sa che è passato Berry sai perché vai alla la vettura la vettura 18 bellissima manovra comunque bellissima manovra quella di Garrett Berry che si è ripreso la posizione il bellissimo a bagarmi verrebbe da dire con Pierre che ha cercato di resistere con molta aggressività anche su sulle comb cercando di portarlo tra il suo avversario anche con vicino l'erba poi sono stati bravi e rispettosi l'un l'altro incrociando le traiettorie le rispettive traiettorie nelle curve successive con lo stato di tense che si riporta in terza posizione sì Mary sembrava comunque aver perso un po' di passo sembrava destinato da entrare in classifica però ha sfruttato comunque la scia per ripassare subito Pierre adesso Pierre di nuovo ha tutto il lavoro da rifare e potrebbe provarci già adesso perché arriviamo alla bus stop e si fa vedere però Berry chiude intelligentemente l'interno e ci viene qui mostrato il tattore play forse la battaglia di prima siamo di nuovo live taglia però Pierre qui all'ultima curva ha tagliato ha tagliato ha tagliato quindi si ha ceduto la posizione Berry però potrebbe comunque tentare l'attacco qui una volta arrivati alla source scusate dopo la source prendendo sempre la scia con Pierre che adesso è nella stessa posizione in cui era Berry prima quindi effettivamente avrà un enorme margine un enorme vantaggio nel sfruttare la scia che se in realtà sembra più distante rispetto a Cotter a Berry prima e deve anche guardarsi le spalle da un Yamakoshi che a questo punto si è ravvicinato parecchio qui intanto vediamo come Peugeot e Andreolo abbiano un ottimo margine e si fa di nuovo vedere però la regia stacca per andare di nuovo nelle retrovie dovrebbe essere la vettura numero 3 di Megna credo lo sta che la grafica adesso sedia di nuovo Berry davanti a Pierre probabilmente è così perché non sembrava che Pierre fosse molto vicino nonostante avesse tentato l'attacco bellissima 4 wide addirittura 5 wide però dovrebbe esserci davanti la vettura numero 4 di Viebelhaus credo che la lotta sia quella fra Borgnà Viebelhaus Lopez Veselao per le posizioni che vanno dalla 18 alla 21 correggetemi se sbaglio è un po' confusa per la via delle tante bagasse la bandiera gialla potrebbe essersi girato qualcuno anche se non ho visto nessuno perdere posizioni la 76 Balestero e qui torniamo comunque siamo ancora a centro gruppo perché la vettura è sempre di Paul Alberto che è seguita appunto da quella di Borgnà di Viebelhaus di Lopez di Veselao quindi ci sono ben 5 macchine che lotta per la 17 posizione non è esattamente una posizione di prestigio però ovviamente è tanto di guadagnato anche perché poi alla fine del campionato c'è la vettura la numero 44 quella di non di Dolper scusate di Veselao di Veselao con la danneggiata che adesso si farà verosimilmente passare da tutti quanti e attendiamo comunque che passino nel frattempo Pierre il Barry ha perso 2 secondi e 4 nei confronti di Andrew Law quindi evidentemente la battaglia o è stata semplicemente la battaglia oppure non inquadrati sono usciti lui e Pierre in qualche punto della pista magari la chicane di Lecombe e questo l'ha fatto perdere parecchio tempo come vediamo come Veselao sia vittima facile comunque dei suoi avversari tenta l'attacco comunque il Lopez che lo passa abbastanza tranquillamente anche se qui si rimette in scia Veselao avrà ovviamente una velocità di punta leggermente superiore ma avrà più difficoltà sicuramente ad affrontare la staccata della Surs e infatti resta dietro si mette alle sue spalle Borgnà che verosimilmente lo passerà tranquillamente in accelerazione si fa vedere Borgnà si fa vedere anche Veselao che appunto è veloce il rettilineo ma non abbastanza qui adesso avrà davvero difficoltà Lourouge deve stare molto attento perché potrebbe benissimo sbagliare non sbaglia quindi davvero molto bravo davvero molto bravo Veselao che però a questo punto dovrebbe cedere nei confronti anche di Borgnà la sua posizione nel frattempo nel frattempo Andreolo si è riportato vicino a Peugeot a meno di tre decimi di distacco mentre Pierre è stato superato da Yamakoshi per la quarta posizione il giapponese ha fatto il giro più veloce della gara adesso è quarto davanti al francese e qui c'è una vettura che precede l'entrante intanto non è Veselao non è Veselao perché Veselao ha il colore giallo è una vettura ragione forse Borgnà perché qui intanto vediamo Veselao forse Borgnà potrebbe essere Borgnà attendiamo nel frattempo come hai detto tu appunto si è riavvicinato a Andreolone con frutto di Peugeot mentre da che sembrava che Barry fosse in difficoltà e Pierre che ha perso la posizione su Yamakoshi e qui vediamo l'uscita una leggera uscita di pista di Veselao che ovviamente ha perso il supporto dell'all'anteriore ha molto meno carico però riesce comunque a tenerla con un discreto ritmo devo dire perché comunque forse sfruttando il fatto che è una pista molto veloce in cui contano tanto gli allughi la perdita di carico aerodinamico non si fa sentire tanto in quei punti e poi lui ci mette davvero tanto mani con i curvoni veloci a tenerla in pista la curva Malmedie è un punto in cui si può finire spesso con il ruoto sulla ghiaia per vedere la troppa velocità in uscita una curva in cui si può finire molto facilmente fuori qui siamo di nuovo da Veselao con come avevo detto Barry Yamakoshi Yamakoshi che ha passato Pierre come avevo detto Pierre Steven Heidens molto vicini Steven Heidens a questo punto Steven Heidens però potrebbe puntare a questo punto al podio perché effettivamente è in scia al gruppetto di Barry qui dato davanti la lotta fra Peugeot per la preposizione andrew sembra distante non altrettanto distante sono Barry Yamakoshi Pierre Steven Heidens che però si deve guardare da Schiltere in ribotta dopo la vittoria di Garauro torniamo davanti con le immagini con Barry che chiude l'interno nei confronti di Yamakoshi potrebbe provarci Yamakoshi all'esterno infatti si fa vedere all'esterno di Yamakoshi alla strada sbarata Pierre Yamakoshi ci prova forse potrebbe essere passato Yamakoshi aveva l'interno dopo aver cercato il sorpasso su Barry qui poi ci hanno staccato l'immagino Yamakoshi era all'esterno Yamakoshi era all'esterno ci provava all'esterno sembrava all'interno che avendo un numero a singola cifra sembrava a sinistra magari adesso vedremo la grafica lo segna davanti perché effettivamente potrebbe aver staccato dopo credo che la vettura all'esterno fosse quella davanti all'approccio dell'Alecom quindi credo che fosse davanti Yamakoshi che poi davanti al termine della manovra di sorpasso è un altro paio di maniche questo lo scopriremo e dovrebbe esserci la macchina a due cifre è tornato quarto con le pance super colorate distinguibili è in mezzo è tornato quarto quindi sì potrebbe essere magari stata una leggera uscita di pista di entrambi all'Alecom c'è Barry davanti Barry in terza posizione vedendo diffugito il numero a doppia cifra infatti Barry Pierre e Yamakoshi quindi verosimilmente Yamakoshi era all'esterno è uscito leggermente fuori questo ha favorito Pierre che è passato in quarta posizione e adesso potrebbe riprovare l'attacco nei confronti di Barry davvero una bella battaglia soprattutto segnaliamo ancora nessuna safety car quando appunto termina il tempo e stiamo per entrare nell'ultimo giro con Yamakoshi che si fa vedere però stavolta si fa vedere Pierre nei confronti di Barry ma le posizioni restano mutate entriamo quindi quello che dovrebbe essere l'ultimo giro di gara anzi quasi sicuramente infatti la grafica ci segnala l'ultimo giro di gara con Peugeot Andreolo Barry Pierre Yabakoshi Steven Adams Schilter e Foster in zona punti e Steven Adams si è riavvicino al gruppo però sarà molto difficile per lui eventualmente andare in una zona podio credo che effettivamente il podio sia un affare tra i primi due con qui vediamo con Andreolo che ha affrontato molto bene la source si è molto riavvicinato dai confronti di Peugeot rispetto a quanto era il distacco segnalo sull'ultraguardo quindi la lotta per la vittoria potrebbe non essere finita perché Andreolo adesso si mette in scia adesso Peugeot potrebbe cercare il sorpasso alle comb ovviamente qui la regina non ci assiste si fa vedere si fa vedere Andreolo però chiude abbastanza tranquillamente Peugeot quindi mantiene la posizione potrebbe riprovarci magari da Blanchibot fino ad arrivare alla bus stop qui però mi sembra abbastanza possibile dietro intanto attendiamo di vedere dietro con la grafica sedia Barry Yamakoshi Pierre infatti non mi era parso di vedere che qualcuno avesse tentato l'attacco però dovremmo comunque vedere il momento in cui si andrà ad aggiornare la grafica quindi Peugeot al comando Peugeot al comando a mezzo giro dalla fine seguito da Andreolo Barry che ha allungato leggermente a 1 quindi con questi punti guadagna sicuramente qualcosa di molto importante anche nei confronti di un Giltère che chiude soltanto sesto anche se comunque con quattro posizioni guadagnate Pierre ha passato Yamakoshi e anche Seven Hidens Seven Hidens ha passato Giltère Seven Hidens ha passato Giltère quindi Giltère come non detto non è sesto mai settimo ottima ribotta comunque di Seven Hidens che partiva a quindicesimo e si arriva adesso verso la bus stop verso l'ultima chicane prima del traguardo con Peugeot che ha un leggero margine nei confronti di Andreolo che infatti non riesce a tetrarattacco quindi bandiera scacchi Edson Peugeot vince gara 2 vince gara 2 del round di spade della Formula 4 francese secondo Romain Andreolo terzo dovrebbe essere quindi Gareth Barry attendiamo conferma sì Gareth Barry poi Pierre Yamakoshi Seven Hidens Scilter Foster che chiude la zona punti e gara davvero gara davvero corretta sono molto contento comunque che non ci siano state safety car che non ci siano state naturalizzazioni quindi lascio a voi la parola prima Alessia poi Daniele per un'analisi veloce di questa gara Concordo 100% con te Alfredo per questa questione di safety car è stata una gara bellissima soprattutto perché non ci sono state siamo riusciti a vedere gare tutti i sorpassi eccetera nei 20 minuti più un giro ovviamente Enzo Peugeot ha vinto e si aiuta un sacco a livello del mondiale con questa vittoria e abbiamo visto molte mosse Gareth Barry è riuscito comunque a concludere sul podio cosa che all'inizio poteva non sembrare evidente visto che sembrava non avere il passo di quelli in testa perciò è stata decisamente una bella gara Sì è stata una gara molto divertente con tanti sorpassi per le posizioni di vertice molto bravo Peugeot nel finale a non cedere alla pressione di Andreolo molto bravo a proteggere l'interno alle comb in modo da garantirsi così il successo quello che conferma l'ottimo stato di forma visto nel precedente appuntamento contiene la terza vittoria negli ultimi due weekend di gara che lo pone in un'ottima posizione in campionato mentre vediamo gli highlights poi vediamo che Barry nel finale è riuscito a emergere per il secondo podio stagionale con Pierre a sua volta molto bravo a fare un'ottima gara comunque si è dimostrato molto albero corpo a corpo con gli altri sì Barry comunque decisamente in crescita rispetto alle prime uscite l'avevamo visto già da po' ovviamente e forse non abbastanza in crescita da poter ambire per la pole position quindi per la vittoria in una gara con la Grille decisamente risultato delle qualifiche ma abbastanza comunque per magari lottare per il podio in condizioni di Grille invertita e questa comunque tutta esperienza che prima o poi verrà la luce perché comunque si fa avanti e quindi ottimo lavoro davvero per lo statunitezza e Garrett Berry non sono statunitezza invece come vi ho già detto Ezzo Peugeot e Romain Andreolò che lo affiancheranno sul podio vediamo un arrivo in volata o meglio Pierre e Yamakoshi se non l'ho visto male eh sì perché sono staccate di due decimi 242 millesimi quindi effettivamente qui intanto vediamo una vettura che esce dai box la 46 però esce dai box del box endurance era la vettura di Gabriel Dorpraffè che abbiamo visto comunque delle prime fasi già avere qualche problema qui intanto vediamo comunque un'altra vettura che esce fuori la vettura appunto di Diaz Balesteiro e qui appunto vediamo Veselao con l'ala con l'ala anteriore penzolante comunque è riuscito a chiudere la gara in ventesima posizione certo non il massimo ma gli va dato comunque atto del fatto di aver chiuso la gara forse un po' meno atto ai commissari che qui magari avrebbero dovuto esporre una bandiera nera con disco arancio in altre categorie sarebbe stata esposta qui non è stata esposta questa disparità di trattamento vi lascio un po' perplesso perché comunque l'ala anteriore quando pezzola così è un pezzo che può staccarsi o finire sotto le gomme togliendo quindi la direzionalità al pilota o magari volare via addosso a qualcun altro però fatto sta che comunque Veselao ha chiuso la corsa in condizioni precarie e gli ha ne va dato atto sedicesimo Leonardo Menia comunque gara non non perfetta comunque chiude più o meno dove era partito perché era partito intorno alla decima fila se non sbaglio però comunque chiude in sedicesima posizione quindi gara discrede infatti partì a ventiduesimo sei posizioni guadagnate anche grazie ai ritiri altrui non male adesso attendiamo ovviamente la premiazione che ricordiamo vedrà Enzo Pejoro Romelu Andrelot e Gert Berry che saliranno sul podio nel frattempo vi diamo l'appuntamento anche per gara 3 che sarà trasmessa sempre sul nostro canale YouTube Parkferme TV gara 3 che appunto dovrebbe gara 3 che appunto vedrà di nuovo l'utilizzo del risultato delle qualifiche con Evan Schilter e Kevin Foster che partiranno dalla prima fila come è avvenuto appunto in gara 1 e quindi dandovi appuntamento per gara 3 un saluto da Parkferme TV da Alfredo Cirelli Daniele Botticelli e Maria Alessia Quanzi ciao ciao a tutti Salute